Capitolo 30 Coriolanus rimase sbalordito, mentre le guardie gli davano pacche sulla schiena, ridendo. Io... io... Tu sei il più giovane candidato che abbia mai superato il test. Il comandante era entusiasta. Di norma ti addestreremmo qui, ma con i voti che hai ottenuto, sarebbe preferibile che frequentassi un programma d'elite nel Distretto 2. Ci dispiacerà a vederti andare via. Ah, quanto avrebbe desiderato poterlo fare. Andare nel Distretto 2, che non era poi molto lontano da casa sua, a Capitol City. Alla scuola ufficiali. Una scuola ufficiali d'elite, dove sarebbe riuscito a distinguersi e a trovare un modo per tornare a una vita degna di essere vissuta. Poteva essere una strada verso il potere ancora migliore di quella che gli avrebbe offerto l'università. Ma là fuori c'era ancora un'arma del delitto con il suo nome sopra. Il suo DNA lo avrebbe condannato, proprio come era successo con il fazzoletto. Per quanto triste, tragico addirittura, rimanere era troppo pericoloso. E dover stare al gioco faceva male. «A che ora devo partire?» chiese. «Verrà a prenderti un Overcraft qui domani mattina presto. Oggi sei libero, credo. Usa il tempo che hai per fare i bagagli e dedicarti ai saluti». Il comandante gli strinse la mano per la seconda volta in due giorni. «Ci aspettiamo grandi cose da te». Coriolanus ringraziò il comandante e uscì. Una volta fuori, rimase un attimo a valutare le alternative. Inutile. Non esistevano alternative. Odiando se stesso, e odiando se Iano Splinta ancora di più, si diresse verso la costruzione che ospitava il generatore, senza quasi curarsi di poter essere fermato. Che amara delusione, quella di vedersi irrimediabilmente spogliato anche della seconda opportunità di avere un brillante futuro. Dovette ricordarsi della corda e della forca e delle ghiandaie chiacchierone che avrebbero ripetuto le sue ultime parole per ritrovare la concentrazione. Stava per disertare dal corpo dei pacificatori. Doveva tornare in sé. Quando arrivò alla costruzione, diede una rapida occhiata intorno, ma la base dormiva ancora, così sgusciò sul retro senza essere visto. Esaminò la recensione, ma all'inizio non riuscì a trovare nessuna apertura. Intrecciò le dita alle maglie e le scosse con forza. Come previsto, la rete si staccò dal palo di sostegno, lasciando un varco attraverso il quale si infilò a fatica. Una volta all'esterno, tornò alla sua naturale cautela. Girò dietro la base e attraversò una zona boschiva, finendo per arrivare alla strada che portava all'albero delle impiccagioni. Quando giunse lì, ripercorse semplicemente il tragitto del camion, camminando in fretta, ma non tanto da attirare l'attenzione. Comunque, c'era ben poco da attirare l'attenzione all'alba di una torrida domenica. Molti dei minatori e dei pacificatori non si sarebbero alzati ancora per un pezzo. Dopo alcuni chilometri, arrivò al campo incolto e deprimente, quindi si mise a correre verso l'albero delle impiccagioni, impaziente di nascondersi in mezzo ai boschi. Non c'era traccia di Lucy Gray e, mentre passava sotto i rami, si chiese se in effetti non avesse frainteso il suo messaggio e se non dovesse dirigersi invece al giacimento. Poi intravide un lampo arancione e lo seguì in una radura. Lei era lì, impegnata a scaricare una pila di fagotti da un carretto, il fular legato con eleganza intorno ai capelli. Gli si avvicinò di corso e lo abbracciò e lui ricambiò anche se faceva troppo caldo per abbracciarsi. Il bacio che seguì gli migliorò l'umore. La sua mano andò al fular arancione. Questo mi sembra un po' troppo colorato per dei fuggitivi. Lucy Gray sorrise. Beh, non voglio che tu mi perda. Sei ancora convinto? Non ho scelta. Poi, rendendosi conto che la sua frase suonava tiepida, aggiunse Tu sei tutto ciò che conta per me ormai. Anche tu. Sei la mia vita adesso. Mentre stavo qui ad aspettare che arrivassi, ho capito che in realtà non sarei mai stata abbastanza coraggiosa da farlo senza di te, confessò. Non solo perché sarà dura, ma anche perché sarei stata sola. Forse ce l'avrei fatta per qualche giorno, però alla fine sarei tornata a casa dai covi. Lo so, non avevo mai neppure pensato di fuggire finché non me ne hai parlato tu. Mette un gran... timore. Passò una mano sopra i suoi fagotti. Mi dispiace. Non potevo rischiare di portarmi di più. Non pensavo potessi, infatti. Raccolgo questa roba da un po' e ho anche saccheggiato la nostra dispensa. Ma va bene. Ho lasciato ai covi il resto dei soldi. Come per convincere se stessa, aggiunse Staranno bene. Prese una sacca e se la gettò su una spalla. Lui radunò un po' delle provviste. Cosa faranno? Intendo quelli del gruppo, senza di te. O se la caveranno? Sono tutti capaci di cantare e tra qualche anno Mo Daivory mi avrebbe comunque sostituita come solista, disse Lucy Gray. E poi, visto il modo in cui sembra che i guai riescano a scovarmi, può darsi che non sia più gradita nel distretto 12. Ieri sera il comandante mi ha chiesto di non cantare più l'albero degli impiccati. È troppo cupa, ha detto. Troppo subversiva, più probabilmente. Gli ho promesso che non l'avrebbe mai più sentita uscire dalle mie labbra. È una strana canzone, azzardò Coriolanus. Lucy Gray rise. Beh, a Mo Daivory piace. Dice che ha una certa autorevolezza. Come la mia voce, quando ho cantato l'inno a Capitol, ricordò Coriolanus. Esatto, replicò Lucy Gray. Pronto? Si divisero le varie cose. Lui impiegò un momento per capire quello che mancava. La tua chitarra, non la prendi? La lascio a Mo Daivory. Quella e i vestiti di mia madre. Si sforzò di minimizzare. A cosa mi servirebbero? Tam Ember pensa che ci sia ancora gente al nord, ma io non ne sono convinta. Credo che saremo solo noi due. Per un attimo Coriolanus si rese conto di non essere l'unico ad abbandonare i suoi sogni. Troveremo altri sogni là fuori, promise con più convinzione di quella che sentiva. Estrasse la bussola di suo padre, la consultò e poi tese il dito. Il nord è da questa parte. Pensavo che prima saremmo andati al lago. È quasi di strada. Mi piacerebbe vederlo un'ultima volta, disse lei. Era un'idea come un'altra, quindi lui non obiettò. Di lì a poco sarebbero stati alla deriva in mezzo al nulla per non tornare mai più. Perché non assecondarla? Le sistemò un lembo di fular che si era sciolto. E lago sia! Lucy Gray si girò a guardare la città, anche se l'unica cosa che Coriolanus riusciva a distinguere era la furca. Addio, distretto dodici. Addio, albero degli impiccati, Hunger Games e Sindacolip. Un giorno qualcosa mi ucciderà, ma non sarete voi. Si voltò e si addentrò nel folto del bosco. Non saranno molte le cose che ti mancheranno, confermò Coriolanus. Mi mancherà la musica e mi mancheranno i miei passerotti, disse Lucy Gray con voce spezzata. Ma spero che un giorno potranno seguirmi. Sai cosa non mancherà a me? La gente, replicò Coriolanus. Escluse poche persone. La maggior parte di loro è terribile se ci pensi. Le persone non sono così cattive, in realtà, disse lei. È il mondo che le trasforma in quello che sono. Come noi nell'arena. Là dentro abbiamo fatto cose che non avremmo mai immaginato di fare se solo ci avessero lasciati in pace. Non lo so. Io ho ucciso Mayfair e non c'era nessun'arena in vista, ribattì lui. Ma l'hai fatto solo per salvare me? Ci pensò su? Credo che gli esseri umani abbiano una bontà innata. Sappiamo quando varchiamo la linea tra il bene e il male ed è la sfida di un'intera esistenza cercare di rimanere dalla parte giusta di quella linea. A volte ci sono delle decisioni difficili da prendere. Lui aveva dovuto farlo per tutta l'estate. Questo lo so. Certo che lo so. Sono una vincitrice replicò in tono triste. Sarebbe bello se nella mia nuova vita non fossi costretta a uccidere nessuno. Sono d'accordo con te. Mi sembra che tre morti bastino e avanzino per una vita intera. E di sicuro sono abbastanza per una sola estate. Nelle vicinanze si levò un verso ferino che gli ricordò di essere disarmato. Voglio farmi un bastone. Tu ne vuoi uno? Si fermò. Sì. Potrebbe tornare utile in più di un modo. Trovarono un paio di rami robusti e lei glieli tenne fermi mentre lui toglieva le foglie e spezzava i ramoscelli. Chi è il terzo? Cosa? Lo stava guardando in modo strano. Gli scivolò la mano e un frammento di corteccia gli finì sotto un'unghia. Ai! Lei ignorò l'incidente. La persona che hai ucciso? Hai detto di aver ucciso tre persone. Coriolanus morse l'estremità della scheggia per estrarla con i denti per guadagnare tempo. Chi era il terzo in realtà? La risposta era Sejanus naturalmente ma non poteva confessarlo. Riesci a tirarmi fuori questa? Tese la mano agitando il dito nella speranza di distrarla. Fammi vedere. Esaminò la scheggia. Quindi Bobbin Mayfair chi è il terzo? La sua mente galoppava alla ricerca di una spiegazione plausibile. Poteva essere stato coinvolto in qualche strano incidente? Una morte in addestramento? Stava pulendo un'arma ed era partito un colpo per errore. Decise che la cosa migliore era scherzarci su. Me stesso. Ho ucciso il vecchio me per poter venire con te. Lei estrasse la scheggia. Ecco. Beh, spero che il vecchio te non perseguiti quello nuovo. Ci sono già abbastanza fantasmi tra di noi. Il momento passò stroncando la conversazione. Nell'uno nell'altra parlarono ancora finché non giunsero a metà strada dove si fermarono per una pausa. Lucy Gray svitò il tappo della tanica e gliela offrì. Avranno già notato la tua assenza. Forse non lo faranno fino all'ora di cena. E la tua di assenza? Bevè un lungo sorso d'acqua. L'unico a essere già in piedi quando sono uscita era Tam Ember. Gli ho detto che volevo informarmi su un'altra capra. Abbiamo parlato di creare un gregge, di vendere latte come attività extra, rispose. È probabile che io abbia ancora qualche ora prima che comincino a cercarmi. Potrebbe fare notte prima che pensino all'albero degli impiccati e trovino il carretto. Allora faranno due più due. Coriolanus le porse la tanica. Proveranno a seguirti? Può darsi, ma a quel punto saremo lontani. Prese un sorso e si asciugò le labbra con il dorso della mano. A te daranno la caccia? Dubitava che i pacificatori si sarebbero preoccupati tanto presto. Perché avrebbe dovuto disertare quando lo attendeva la scuola ufficiali d'elite? Se qualcuno si fosse accorto che non c'era, forse avrebbe creduto che fosse andato in città con un altro commilitone, a meno che non trovassero il fucile naturalmente. Non gli andava di approfondire la questione della scuola, la ferita era ancora troppo fresca. Non lo so, anche quando si renderanno conto che sono fuggito, non sapranno dove cercarmi. Continuarono a camminare verso il lago, ognuno perso nei suoi pensieri. A Coriolanus sembrava tutto irreale, quasi fosse solo in gita di piacere, come due domeniche prima, come se stessero andando a fare un picnic e dovesse accertarsi di rientrare in tempo per la mortadella alla piastra e il coprifuoco. E invece no. Quando fossero arrivati al lago, avrebbero proseguito per addentrarsi nel nulla, dentro una vita che sarebbe stata consumata dalle più elementari necessità di sopravvivenza. Cosa avrebbero mangiato? dove avrebbero abitato? E cosa diavolo ne sarebbe stato di loro una volta che avessero raggiunto l'obiettivo di procurarsi cibo e riparo? Lei senza la musica, lui senza istruzione, esercito o altro, mettere sua famiglia. Gli sembrava un'esistenza troppo squallida a cui condannare un figlio, qualunque figlio figurarsi uno suo. A cosa poteva aspirare una volta eliminati ricchezza, fama e potere? Lo scopo della sopravvivenza era forse altra sopravvivenza e niente di più? Preoccupato per com'era da quelle domande, la seconda parte del tragitto alla volta del lago trascorse velocemente. Gettarono le loro cose sulla riva e Lucy Gray andò subito alla ricerca di rami da usare per farne canne da pesca. Non sappiamo cosa ci aspetta poi, quindi sarà meglio fare scorta adesso, disse. Poi gli mostrò come annodare filo robusto e ami alle loro canne. Frugare nella fanghiglia molle alla ricerca di vermi gli faceva schifo e Coriolanus si chiese se quella non sarebbe diventata un'attività di tutti i giorni. Probabile se avessero avuto abbastanza fame. Innescarono gli ami e sedettero silenziosi sulla riva aspettando uno strappo mentre gli uccelli conversavano intorno a loro. Lei prese due pesci, lui non prese nulla. Pesanti nuvole scure si avvicinarono rotolando nel cielo e diedero un po' di sollievo dal sole battente ma aumentarono il suo senso di oppressione. Quella era la sua vita ormai. Scavare in cerca di vermi e trovarsi in balia delle stagioni. Degli elementi. Come un animale. Sapeva che sarebbe stato più facile se non fosse stato un individuo così straordinario. Il migliore e più brillante che l'umanità avesse da offrire. Il più giovane ad aver superato il test per aspiranti ufficiali. Se fosse stato stupido e inutile la perdita della civilizzazione non lo avrebbe svuotato dentro a quel modo. L'avrebbe accettata. Gocce di pioggia fredde e pesanti cominciarono a cadergli addosso lasciando macchie bagnate sulla sua tuta mimetica. Non riusciremo mai a cucinare così disse Lucy Gray. Meglio andare dentro. C'è un caminetto che possiamo usare. Poteva riferirsi solo all'unica casa sul lago che aveva ancora un tetto. Forse il suo ultimo tetto fino a che non ne avesse costruito uno lui stesso. Ma come si costruiva un tetto poi? Il test per aspiranti ufficiali non comprendeva quella domanda. Dopo che lei ebbe pulito alla svelta il pesce e lo ebbe avvolto nelle foglie raccolselo i loro fagotti e corsero alla casa sotto la pioggia abbattente. Avrebbe potuto essere divertente se non fosse stata la sua vita reale. Una piccola avventura solo per qualche ora con una ragazza affascinante lì e un futuro appagante altrove. La porta era incastrata ma Lucy Gray le diede un colpo con il fianco e quella si spalancò. Si ripararono all'interno e lasciarono cadere le loro cose. C'era un unico ambiente con le pareti il soffitto e il pavimento di cemento. Di elettricità neanche a parlarne ma la luce filtrava dalle finestre sui quattro lati e dalla porta ancora aperta. I suoi occhi si illuminarono nel vedere il caminetto pieno di vecchie ceneri con un'ordinata catasta di legna secca accanto. Perlomeno non avrebbero dovuto procurarsi anche quella. Lucy Gray andò al caminetto posò il pesce sul piccolo focolare di pietra e cominciò a preparare strati di legna e ramoscelli su una vecchia grata di metallo. Teniamo un po' di legna qua dentro in modo che ce ne sia sempre di secca. Oriolanus valutò la possibilità di fermarsi semplicemente in quella piccola casa robusta con un sacco di legna intorno e il lago in cui pescare. Però no sarebbe stato troppo pericoloso mettere radici così vicino al distretto 12. Se i covi sapevano del posto di sicuro ne erano conoscenza anche altri. Era costretto a negarsi persino quell'ultimo briciolo di protezione. Sarebbe finito in una caverna. Pensò al bellissimo attico degli snow con i pavimenti di marmo e i lampadari di cristallo. La sua casa. La sua legittima casa. Il vento soffiò uno schizzo di pioggia all'interno colpendo i suoi pantaloni con gocce gelide. Coriolanus chiuse la porta dietro di sé e si immobilizzò. Il battente aveva nascosto qualcosa. Un lungo sacco di iuta. Dall'apertura sbucava la canna di un fucile da caccia. Non poteva essere. Incapace di respirare, con lo stivale diede un colpetto al sacco per aprirlo, scoprendo il fucile da caccia e quello da pacificatore. Allargando appena i bordi del sacco, riconobbe il lanciagranate. Non c'era alcun dubbio. Quelle erano le armi del mercato nero che Sejanus aveva comprato nel capanno. E tra di esse c'erano anche quelle usate per i delitti. Lussigreia accese il fuoco. Ho preso una vecchia scatola di latta pensando che magari avremmo potuto portare delle bracci da un posto all'altro. Ho pochi fiammiferi ed è difficile accendere un fuoco con una pietra focaia. Mhm, disse Coriolanus. Buona idea. Come erano arrivate lì le armi? Aveva senso in realtà. Billy Top poteva aver portato Sprius al lago o forse Sprius conosceva già l'esistenza della casetta. Doveva essere stato un utile rifugio per i ribelli durante la guerra. E Sprius era stato abbastanza intelligente da capire che non poteva rischiare di nascondere le prove nel distretto 12. Ehi, cosa hai trovato lì? Lussigreia lo raggiunse e si abbassò togliendo le armi dal sacco di juta. Oh, sono quelle che avevano nel capanno? Direi proprio di sì, rispose lui. Portiamo i fucili con noi. Lussigreia si tirò indietro, si alzò e rimase a valutarle per un lungo istante. Preferisco di no, non mi fido dei fucili. Questo invece potrà tornarci utile. Estrasse un lungo coltello, rigirandosi la lama nella mano. Credo che andrò a cercare un po' di Katniss visto che ormai il fuoco ha preso. C'è una zona buona vicino al lago. Pensavo che non fosse ancora pronta, disse lui. Due settimane possono fare parecchia differenza, replicò lei. Piove ancora, obiettò. Ti insuperai. Lei rise. Beh, non sono fatta di zucchero. Per la verità, Coriolanus era felice di avere un momento da solo per pensare. Dopo che Lucy Gray fu uscita, prese il sacco e rovesciò le armi sul pavimento. In ginocchio, accanto al mucchio, prese il fucile da pacificatore con cui aveva ucciso Mayfair e lo cullò tra le braccia. Eccola, l'arma del delitto. Non in un laboratorio forense di Capitol City, ma lì, tra le sue mani, nel bel mezzo del nulla, dove non costituiva alcuna minaccia. Tutto quello che doveva fare era distruggere il fucile e sarebbe stato libero dal cappio del boia. Libero di tornare alla base, libero di andare al distretto 2, libero di ritrovare la razza umana senza averne paura. Lacrime di sollievo inondarono i suoi occhi e cominciò a ridere di pura gioia. Come poteva disfarsene? Bruciandolo, smontandolo e spargendo i singoli pezzi ai quattroventi, gettandolo nel lago. Una volta sparito il fucile non ci sarebbe stato più niente a collegarlo agli omicidi, assolutamente niente. No, un momento, una cosa ci sarebbe stata, Lucy Gray. Beh, non aveva importanza. Lei non avrebbe mai parlato, ovviamente non sarebbe stata entusiasta quando le avesse detto che c'era stato un cambiamento di programma, che lui sarebbe tornato dai pacificatori e sarebbe partito per il distretto 2 all'alba del giorno dopo, in pratica abbandonandola al suo destino. Comunque non lo avrebbe mai denunciato, non era nel suo stile e farlo avrebbe coinvolto anche lei negli omicidi. Avrebbe potuto significare ritrovarsi morta e come avevano dimostrato gli Hunger Games, Lucy Gray possedeva un eccellente istinto di conservazione e poi lo amava, lo aveva detto la sera prima con la canzone, anzi più ancora si fidava di lui. Per quanto se l'avesse scaricata nei boschi a portare avanti con le unghie e con i denti un'esistenza solitaria, senza dubbio avrebbe pensato di essere stata tradita. Doveva pensare al modo giusto per comunicarle la notizia. Ma quale poteva essere il modo giusto? Ti amo profondamente ma amo di più la scuola ufficiali? Non l'avrebbe presa bene. Lui la amava, davvero. Il fatto era che gli erano bastate poche ore della sua nuova vita nella natura selvaggia per capire chi odiava la calura e i vermi e quegli uccelli che chiacchieravano in continuazione. Certo che ci stava mettendo parecchio con quelle patate di palude. Coriolanus lanciò un'occhiata dalla finestra. La pioggia si era ridotta a uno sgocciolio. Lei non voleva andare via da sola. Era troppo triste. la canzone diceva che aveva bisogno di lui che lo amava e che si fidava di lui ma lo avrebbe perdonato anche se l'avesse abbandonata. Billy Toop l'aveva fatta arrabbiare ed era finito ammazzato. Riusciva a sentire le parole di lui. Mi fa schifo come imbrogli i ragazzi. Povera Lucy Gray povero agnellino e a vedere lei che gli affondava i denti in una mano. Pensò all'indifferenza con cui aveva ucciso nell'arena. Prima la gracile piccola uovi. Quello era stato un gesto compiuto a sangue freddo se mai ne aveva visto uno. Poi il modo calcolato in cui aveva eliminato Trich provocandolo perché la attaccasse così da poter tirare fuori quel serpente dalla tasca. E sosteneva che Mortifer avesse la rabbia che la sua uccisione fosse stata un atto di pietà. Ma chi poteva saperlo? No. Lucy Gray non era un agnellino. Non era fatta di zucchero. Lei era una vincitrice. Controllò che il fucile da pacificatore fosse carico. Poi spalancò la porta. Non c'era segno di lei. Scese fino al lago cercando di ricordare il posto esatto in cui Clerc Carmine aveva scavato prima di portare loro l'erba saetta. Aveva poca importanza. La zona intrisa di fanghiglia che attorniava al lago era deserta e la sponda intatta senza tracce. Lucy Gray L'unica risposta venne da una ghiandaia imitatrice solitaria sul ramo lì vicino che si sforzò di riprodurre la sua voce ma senza riuscirci dato che le sue parole non avevano niente di particolarmente musicale. Dacci un taglio borbottò alla creatura non sei una ghiandaia chiacchierona. Non c'erano dubbi si stava nascondendo da lui. Ma perché? Poteva esserci una sola risposta perché aveva capito tutto quanto aveva capito che distruggere il fucile avrebbe spazzato via ogni prova fisica della sua implicazione con gli omicidi che lui non aveva più intenzione di scappare insieme a lei che lei era l'ultimo testimone in grado di collegarlo al delitto ma si erano sempre guardati le spalle a vicenda quindi perché di punto in bianco avrebbe dovuto pensare che lui poteva farle del male perché se solo il giorno prima era puro come neve che si posa Seianus doveva aver capito che Seianus era la sua terza vittima forse non sapeva niente del trucco con la ghiandaia chiacchierona solo che lui era stato il confidente di Seianus e che Seianus era un ribelle mentre Coriolanus era un difensore di Capitol City eppure ritenere addirittura che potesse ucciderla abbassò lo sguardo sul fucile carico tra le sue mani magari avrebbe dovuto lasciarlo nel capanno seguirla armato non lo metteva proprio in ottima luce come se le stesse dando la caccia però non voleva davvero ucciderla solo parlarle e assicurarsi che ragionasse Metti giù il fucile si disse ma le mani si rifiutarono di collaborare lei ha solo un coltello un coltello grosso il meglio che riuscì a fare fu mettersi il fucile in spalla Lucy Gray stai bene? mi stai spaventando dove sei? lei avrebbe dovuto dire soltanto ho capito andrò via da sola come avevo pensato di fare fin dall'inizio ma appena quella mattina gli aveva confessato di pensare che non ce l'avrebbe fatta per conto suo che sarebbe tornata dai covi nel giro di qualche giorno sapeva che lui non le avrebbe creduto Lucy Gray per favore voglio solamente parlarti gridò cosa pensava di fare di nascondersi e aspettare che lui si stancasse e tornasse alla base per poi sgusciare di nuovo a casa quella notte no non gli stava bene una volta eliminata l'arma del delitto lei avrebbe comunque rappresentato un pericolo e se ora fosse tornata al distretto 12 e il sindaco fosse riuscito a farla arrestare e se l'avessero interrogata o persino torturata la storia sarebbe venuta fuori lei non aveva ucciso nessuno lui sì la sua parola contro quella di lei anche se non le avessero creduto la sua reputazione ne sarebbe uscita distrutta il loro romanzetto d'amore sarebbe stato scoperto così come i particolari di come avesse barato negli Hunger Games il decano Highbottom avrebbe potuto essere convocato in qualità di testimone non poteva correre un simile rischio ancora nessun segno di Lucy Gray non gli stava lasciando altra scelta se non darle la caccia nei boschi ormai aveva smesso del tutto di piovere l'aria era umida e il terreno fangoso tornò alla casa e ispezionò il suolo fino a trovare l'impronta leggera delle sue scarpe poi seguì le tracce fino ai cespugli dove il bosco tornava a infoltirsi e in silenzio si fece strada tra gli alberi gocciolanti il chiacchiericcio degli uccelli gli riempiva le orecchie e il cielo nuvoloso rendeva scarsa la visibilità il sottobosco nascondeva le orme di Lucy Gray ma per qualche ragione Coriolanus sentiva di essere sulla pista giusta l'adrenalina acuiva i suoi sensi permettendogli di notare un ramo spezzato qui una strisciata nel muschio là si sentiva un po' in colpa per averla spaventata in quel modo cosa stava facendo? tremava in mezzo ai cespugli cercando di soffocare i singhiozzi l'idea di una vita senza di lui doveva spezzarle il cuore una chiazza arancione attirò il suo sguardo sorrise non voglio che tu mi perda aveva detto e lui non l'aveva fatto avanzò tra i rami fino a una piccola radura coperta dalle fronde degli alberi il fular arancione era abbandonato su alcuni ruovi dove sembrava essersi impigliato mentre lei fuggiva bene era una conferma che la direzione era corretta andò a recuperarlo forse se lo sarebbe tenuto dopo tutto quando un lieve fruscio tra le foglie lo fece fermare di botto ebbe appena il tempo di accorgersi del serpente prima che lo mordesse sdrotolandosi come una molla e affondandogli i denti nel braccio teso verso il fular ah! gridò il rettile lo liberò subito e strisciò tra i cespugli ancora prima che Coriolanus fosse riuscito a vederlo bene il panico si impadronì di lui mentre fissava il segno rosso e arcuato del morso sull'avambraccio il panico e l'incredulità Lucy Gray aveva tentato di ucciderlo quella non era una coincidenza il fular perduto a bella posta il serpente pronto Mudaivori aveva detto che lei sapeva sempre dove trovarli era un trabocchetto e lui c'era finito dritto dentro povero agnellino davvero cominciava a provare simpatia per Billy Taup Coriolanus non sapeva niente di serpenti a parte quelli variopinti dell'arena le gambe piantate nel terreno il cuore a mille si aspettava di morire all'istante e ciò nonostante era ancora in piedi per quanto la ferita gli facesse male non sapeva quanto tempo gli restasse ma quanto era vero che si chiamava Snow Lucy Gray l'avrebbe pagata cara doveva legarsi qualcosa intorno al braccio succhiare il veleno non avevano ancora fatto addestramento di sopravvivenza temendo che le sue cure di primo soccorso avrebbero solo diffuso il veleno più in fretta diede uno strattone alla manica per abbassarla sull'avambraccio si tolse il fucile dalla spalla e cominciò a inseguirla se si fosse sentito meglio avrebbe riso del paradosso di quanto poco avesse impiegato il loro rapporto a deteriorarsi fino a diventare un'edizione privata degli Hunger Games non era così facile starle dietro ormai e Coriolanus comprese che le tracce erano state lasciate fin dall'inizio per condurlo direttamente al serpente e tuttavia Lucy Gray non poteva essere troppo lontana doveva pur accertarsi che quella cosa l'avrebbe ucciso o sarebbe stata costretta a formulare un altro piano d'attacco probabilmente sperava che lui fosse svenuto così da potergli tagliare la gola con il coltello Coriolanus provò a placare il respiro affannoso e si inoltrò nel bosco scostando delicatamente i rami con l'estremità del fucile ma era impossibile individuare gli spostamenti di Lucy Gray pensa si disse dove andrebbe la risposta lo colpì come una mattonata non avrebbe certo voluto battersi con lui armato di fucile mentre lei aveva solo un coltello sarebbe tornata alla casa sul lago a prendere un altro fucile forse gli aveva girato intorno e ci stava andando proprio in quel momento tese le orecchie sì sì gli parve di sentirla muoversi sulla sua destra diretta verso il lago cominciò a correre in direzione di quel suono quindi si fermò di colpo se Lucy Gray lo aveva sentito di certo ora correva nel bosco senza più preoccuparsi di non fare rumore sapendo che lui sapeva Coriolanus valutò che potesse trovarsi a una decina di metri da lui si portò il fucile alla spalla e scaricò una raffica di proiettili nella direzione in cui credeva che lei fosse uno stormo di uccelli starnazzò nell'alzarsi in volo e lui sentì un debole grido beccata pensò si precipitò nel folto dietro di lei rami e spine che si impigliavano ai vestiti e gli graffiavano il viso senza che ci badasse finché non arrivò nel punto in cui immaginava che l'avrebbe trovata nessuna traccia non importava avrebbe dovuto muoversi ancora e quando l'avesse fatto non gli sarebbe sfuggita Lucy Gray disse in tono normale Lucy Gray non è troppo tardi per trovare un accordo certo che lo era ma lui non le doveva niente e di sicuro non la verità Lucy Gray non vuoi proprio parlarmi? la sua voce lo colse di sorpresa levandosi dolce e improvvisa nell'aria verrai verrai all'albero verrai di corda una collana insieme a dondolare strani eventi qui si sono verificati e nessuno mai verrebbe a curiosare se a mezzanotte ci incontrassimo all'albero degli impiccati sì ho capito pensò tu sai di Sejanus la collana di corda e tutto il resto fece un passo nella sua direzione proprio mentre una ghiandaia imitatrice riprendeva la canzone poi una seconda poi una terza il bosco prese vita con la loro melodia a mano a mano che decine di ghiandaie si univano al coro si tuffò tra gli alberi e aprì il fuoco sul punto da cui era giunta la voce l'aveva colpita non avrebbe saputo dirlo perché il canto degli uccelli gli riempiva le orecchie disorientandolo piccole macchie nere sciamarono davanti ai suoi occhi e il braccio cominciò a pulsare Lucy Gray sbraitò in preda alla frustrazione ragazza intelligente subdola letale sapeva che gli uccelli l'avrebbero coperta alzò il fucile e mitragliò le fronde tentando di spazzare via le ghiandaie molte si alzarono verso il cielo ma le note si erano diffuse ormai e il bosco viveva della canzone Lucy Gray Lucy Gray inferocito si volse da una parte e dall'altra per poi far saltare il bosco sparando a 360 gradi ancora e ancora finché non esaurì le pallottole crollò a terra con la testa che gli girava e la nausea mentre il bosco esplodeva delle grida fortissime di ogni genere di uccelli e le ghiandaie imitatrici continuavano con la loro interpretazione dell'albero degli impiccati natura impazzita geni marci caos doveva andarsene da lì il braccio aveva cominciato a gonfiarsi doveva rientrare alla base dopo essersi rialzato a fatica tornò a passo pesante verso il lago all'interno della casa tutto era rimasto come lo aveva lasciato se non altro le aveva impedito di tornare indietro usando un paio delle sue calze a modi guanti pulì l'arma del delitto la infilò con tutte le altre nel sacco di juta se lo caricò in spalla e corse sulla sponda del lago giudicandolo abbastanza pesante da affondare senza l'aiuto di qualche sasso lasciò cadere il sacco e lo trascinò verso acque più profonde lo spinse verso il fondo e rimase a osservarlo scendere lentamente nell'oscurità ormai il braccio era avvolto da un formicolio preoccupante tornò a riva nuotando goffamente e si diresse ancora verso la casa barcollante e le provviste doveva affondare anche quelle inutile o Lucy Gray era morta e le avrebbero trovati i covi o era viva e c'era da sperare che le avrebbe usate per la fuga gettò il pesce nel fuoco perché bruciasse e uscì chiudendo con forza la porta dietro di sé aveva ricominciato a piovere un vero diluvio si aspettava che avrebbe cancellato ogni traccia della sua presenza i fucili erano spariti le provviste erano di Lucy Gray restavano soltanto le orme e quelle gli si stavano sciogliendo sotto gli occhi le nuvole sembravano penetrargli nel cervello si sforzò di pensare torna indietro devi rientrare alla base ma in quale direzione era prese dalla tasca la bussola di suo padre stupito che funzionasse dopo essere rimasta a mollo nel lago Crassus Snow era ancora là fuori da qualche parte e lo proteggeva Coriolanus si aggrappò alla bussola una cima di salvataggio nella tempesta mentre si dirigeva a sud attraversò il bosco inciampando di continuo terrorizzato e solo ma con la sensazione che il padre fosse al suo fianco poteva darsi che Crassus non avesse una grande opinione di lui eppure avrebbe voluto che il suo retaggio continuasse a vivere e forse quel giorno Coriolanus si era riscattato un po' di fatto però niente di tutto questo avrebbe avuto importanza se il veleno lo avesse ucciso si fermò per vomitare rimpiangendo di non essersi portato dietro la tanica d'acqua si rese conto vagamente che il suo DNA sarebbe stato anche lì ma a chi poteva interessare la tanica non era un'arma del delitto non aveva importanza i covi non avrebbero fatto parola di un eventuale ritrovamento del corpo di Lucy Gray non avrebbero voluto attirare l'attenzione la cosa avrebbe potuto collegarli ai ribelli o rivelare il loro rifugio sempre che ci fosse un corpo non era nemmeno in grado di dire se l'aveva colpita Coriolanus fece ritorno non esattamente all'albero delle impiccagioni ma al distretto 12 uscì da una macchia finì in mezzo alle stamberghe dei minatori e in qualche modo trovò la strada per la base il tuono fece tremare il terreno e un fulmine squarciò il cielo mentre lui giungeva alla piazza non vide nessuno quando arrivò alla base passando di nuovo dalla recinzione andò dritto in ambulatorio dove sostenne di essersi fermato per allacciarsi una scarpa mentre andava in palestra e che un serpente sbucato dal nulla lo aveva morso la dottoressa annui è la pioggia che li fa uscire davvero Coriolanus pensò che la sua storiella potesse essere messa in dubbio o quantomeno accolta con scetticismo ma la dottoressa non parve avere sospetti gli hai dato un'occhiata non proprio pioveva e lui è stato veloce rispose morirò la vedo difficile ridacchiò lei non era neanche velenoso vedi che ha lasciato dei segni niente zanne però il braccio ti farà male per qualche giorno è sicura ho vomitato e non riuscivo a pensare chiaramente disse beh il panico può avere questo effetto pulì la ferita forse rimarrà una cicatrice bene pensò Coriolanus mi ricorderà di stare più attento gli fece diverse iniezioni e gli diede una boccetta di pastiglie passa domani così controlliamo di nuovo domani sarò al distretto 2 replicò Coriolanus vai in ambulatorio la allora disse buona fortuna soldato Coriolanus tornò nella sua camerata sbalordito che fosse solo metà pomeriggio tra la sbronza e la pioggia i suoi compagni non si erano neppure alzati andò nei bagni e si svuotò le tasche l'acqua del lago aveva ridotto la cipria al profumo di rose di sua madre a una poltiglia disgustosa che lui gettò nell'immondizia le foto si erano ormai incollate tra loro e si strapparono quando provò a separarle così fecero la fine della cipria solo la bussola di suo padre era sopravvissuta a quell'uscita si tolse gli abiti e si strofinò via gli ultimi resti del lago quando si fu rivestito prese la sacca da viaggio e cominciò a radunare la sua roba rimettendo la bussola nella scatola dei suoi effetti personali che ripose sul fondo dopo averci riflettuto aprì l'armadietto di Sejanus e prese anche la sua di scatola una volta al distretto 2 l'avrebbe spedita ai plint con un biglietto di condoglianze sarebbe stato appropriato da parte del migliore amico di Sejanus e chissà magari i dolci avrebbero continuato ad arrivare la mattina seguente dopo un lacrimoso addio dei suoi compagni di camerata si imbarcò sull'overcraft per il distretto 2 la situazione migliorò all'istante il sedile imbottito l'assistente di volo l'ampia scelta di bevande niente di lussuoso affatto ma comunque ben lontano dal treno delle reclute consolato dal comfort appoggiò la testa all'oblò nella speranza di schiacciare un pisolino per tutta la notte mentre la pioggia tambureggiava sul tetto della camerata si era chiesto dove fosse Lucy Gray morta nel bosco rannicchiata vicino al fuoco nella casa sul lago se era sopravvissuta di certo doveva aver accantonato l'idea di tornare al distretto 12 Coriolanus si appisolò con la melodia dell'albero degli impiccati che gli ronzava nel cervello e si svegliò ore dopo all'atterraggio dell'overcraft benvenuto a capital city Coriolanus spalancò gli occhi di colpo cosa? no ho mancato la mia fermata io devo presentarmi al distretto 2 questo volo prosegue fino al distretto 2 ma abbiamo ordine di farti scendere qui disse l'assistente di volo controllando un elenco temò che tu debba scendere abbiamo una tabella di marcia da rispettare si ritrovò sull'asfalto di un piccolo aeroporto che non conosceva si fermò un camion dei pacificatori e gli venne ordinato di salire sul retro nel corso di un viaggio sferragliante durante il quale non riuscì a ottenere nessuna informazione dal conducente la paura si instillò dentro di lui c'era stato un errore o no? e se in un modo o nell'altro lo avessero collegato agli omicidi forse Lucy Gray era tornata per accusarlo e avevano bisogno di fargli delle domande avrebbero dragato il lago in cerca delle armi il suo cuore ebbe un piccolo sussulto quando imboccarono via dell'accademia e passarono davanti alla scuola immobile e silenziosa in un pomeriggio d'estate ecco il parco dove a volte andavano a gironzolare dopo le lezioni e la pasticceria con quelle tortine che gli piacevano moltissimo se non altro gli era stato concesso di dare ancora un'ultima occhiata alla sua città natale la nostalgia si dissolse quando il camion svoltò bruscamente e lui capì che stavano prendendo il viale che portava alla cittadella una volta dentro le guardie lo accompagnarono direttamente all'ascensore ti sta aspettando nel laboratorio si aggrappò all'esile speranza che si riferissero alla dottoressa Kay non alla dottoressa Gol ma la sua vecchia nemesi lo salutò con la mano dall'altro lato del laboratorio non appena uscì dalla cabina per quale motivo lui era lì? sarebbe finito a fare da cavia in una gabbia? mentre avanzava verso di lei la vide lasciar cadere un topolino vivo in una teca di serpenti dorati il ritorno del vincitore? tieni reggi questi la dottoressa Gol gli ficcò in mano un contenitore di metallo pieno di piccoli ruditori rosa che si dimenavano Coriolanus soffocò un conato buongiorno a dottoressa Gol ho ricevuto la tua lettera disse la donna e la tua ghiandaia chiacchierona peccato per il giovane Plint per quanto è davvero un peccato? comunque sono stata lieta di vedere che hai proseguito i tuoi studi nel 12 sviluppando la tua visione del mondo Coriolanus si sentì precipitare di nuovo al tempo delle loro conversazioni private come se non fosse successo niente sì questo periodo mi ha aperto gli occhi ho pensato a tutti gli argomenti di cui abbiamo discusso caos controllo contratto le 3C hai pensato agli Hunger Games? gli chiese il giorno in cui ci siamo conosciuti Casca ti ha chiesto quale fosse il loro scopo e tu hai dato la solita risposta punire i distretti adesso la cambieresti quella risposta? Coriolanus ricordò il dialogo con Sejanus mentre svuotavano la sua sacca da viaggio quando l'amico era arrivato alla base vorrei approfondirla i giochi non servono solo a punire i distretti fanno parte di una guerra eterna ogni edizione è una battaglia a sé stante una battaglia che possiamo tenere in pugno anziché scatenare una vera guerra che potrebbe sfuggire al nostro controllo la gol tolse un topo da una bocca spalancata e non essere avido tu in più i giochi sono un promemoria di quello che abbiamo fatto gli uni agli altri di quello che potremmo ancora fare a causa di ciò che siamo proseguì e ciò che siamo lo hai stabilito? chiese lei creature che hanno bisogno di capital city per sopravvivere non riuscì a trattenere una frecciata però è tutto inutile sa gli angry games nel distretto 12 nessuno guarda il programma a parte la mietitura alla base non avevamo neanche un televisore che funzionasse per quanto la cosa possa costituire un problema in futuro quest'anno è una benedizione dato che ho dovuto cancellare l'intero disastro replicò la dottoressa gol è stato un errore coinvolgere gli studenti specie quando hanno cominciato a cadere come mosche ha dato un'immagine di capital city eccessivamente vulnerabile l'ha cancellato chiese ho fatto sparire fino all'ultima copia perché lo spettacolo non venga mai più trasmesso soghignò ho l'originale in cassaforte naturalmente ma è per il mio personale divertimento Coriolanus era felice cancellare le registrazioni era solo un altro modo per eliminare dal mondo Lucy Gray capital city l'avrebbe dimenticata i distretti quasi non la conoscevano e il 12 non l'aveva mai accettata davvero nel giro di qualche anno sarebbe rimasto solo il vago ricordo di una ragazza che una volta aveva cantato nell'arena e poi anche quello sarebbe stato dimenticato addio Lucy Gray in fondo ti conoscevamo appena non è stato un completo fallimento credo che l'anno prossimo risusciteremo Flickerman e la tua idea delle scommesse ce la teniamo stretta c'è bisogno di qualcosa che rende imprescindibile la visione dei giochi nessuno nel 12 vorrà sintonizzarsi per scelta su qualcosa di deprimente le disse lui quelli trascorrono quel po' di tempo libero che hanno bevendo per dimenticare il resto delle loro vite la dottoressa Goll ridacchiò sembra proprio che tu abbia imparato un sacco di cose durante le tue vacanze estive signor Snow vacanze rispose lui perplesso cosa avresti fatto se fossi rimasto qui avresti oziato in giro per Capitol City pettinandoti i riccioli ho ritenuto che un'estate con i pacificatori sarebbe stata molto più istruttiva si godette l'espressione smarrita che si era dipinta sulla faccia di Coriolanus non penserai che abbia investito tutto questo tempo su di te per poi consegnarti a quegli imbecilli dei distretti vero non capisco mi avevano detto attaccò lui la dottoressa Goll lo fermò ho disposto che venissi congedato con onore e con effetto immediato continuerai i tuoi studi universitari sotto la mia supervisione all'università qui a Capitol City disse lui sorpreso lei lasciò cadere un ultimo topolino nella teca le lezioni cominciano giovedì a l'escrizì l'escrizì a l'escrizì Grazie a tutti